Dimostramo che fu possibile realizzare una rete terrestre e quindi che poteva poi essere esportata come progetto anche in altri luoghi del mondo. Dobbiamo creare i presupposti perché queste persone possano rimanere, dove vorrebbero rimanere e dove non possono rimanere perché le condizioni di vita sono troppo infelici. Internet è tutto. Internet può diventare quello strumento che permette in tutti quei paesi di superare le situazioni di conflitto proprio maturando una maggiore cultura.